...di tre chilometri, bisogna farlo arrivare perché Mario ha prenotato e lì c'è anche un problema logistico. Ha detto Presidente già non abbiamo alternative in merito a quello che sta succedendo e quindi il personale... L'alternativa è quella delle farmacie, se riuscissimo a fare in modo che il contatto di positivo possa andare a testarsi ad esempio all'interno della farmacia. Non so se i farmacisti si arrabbiano per questa roba, però comunque già ci vanno i positivi in farmacia, perché vedo i dati, loro fanno 60.000 tamponi al giorno più o meno e vedo che sparano un bel po' di positivi, quindi gli beccano anche loro i positivi.